Metti i piedi bene lì. Pronto? Partenza? Via! Hai bevuto? Hai bevuto? No, ah, meno male. Hai tenuto la bocca chiusa, eh? Hai visto, papi? Sei stato bravissimo, amore. Voglio mettere questo qua dentro l'acqua. Che ora hai adesso? Siete ore sono, sono 12 e un quarto. No, 12 e un quarto o 12 e un quarto? No, 12 e un quarto. Vai del giorno e fai.